Cronaca da Ciriali, i carabinieri sequestrano armi e munizioni a Giarra, i militari dell'arma manettano a due rumeni che stavano picchiando un connazionale. Grande paura questa mattina ad Acci Sant'Antonio, un'auto con una donna alla guida è finita in una voragine improvvisamente aperta in strada. A Giarra è eletto il nuovo collegio dei revisori dei conti, il neopresidente e la commercialista già rese vera Blancato, sostenuta da articolo 4. Ben trovati dalla redazione di reporter, questi i titoli in primo piano, tra gli altri argomenti spazio ancora al maltempo e ai danni che ha causato nella zona dell'Acese e non solo. Ad Acci Catena ad esempio prosegue la conta dei danni e crollata pure parte dell'oratorio San Giacomo. Ancora piogge torrenziali però la notte scorsa su Aci Reale, con svariati interventi compiuti dai vigili del fuoco, stamattina invece giornata dedicata ai sopralluoghi nei vari istituti scolastici. Infine riflettori puntati ancora una volta sulla SS 114, il consigliere comunale Acese Giuseppe è ferlito a puntare l'attenzione sulla necessità di una barriera spartitraffico lungo la statale nel tratto che da Aci Reale porta alla frazione di Santa Maria Ammalati. Ma come sentito dai titoli partiamo con la cronaca con le diverse operazioni dei carabinieri che da Aci Reale hanno sequestrato armi e munizioni a casa di un insospettabile. A Giarra invece hanno ammanettato due cittadini rumeni che con una mazza stavano picchiando un connazionale. Vediamo. Armi, munizioni, polvere da sparo, piante, semi di cannabis e marijuana sono stati sequestrati dai carabinieri ad Aci Reale nell'abitazione di un uomo di 55 anni che è stato arrestato per coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, detenzione di armi clandestine e munizionamento da caccia, polvere da sparo e munizionamento da guerra. Non è stato reso noto il nome dell'arrestato. In casa e in un fondo agricolo i militari gli hanno sequestrato un fucile da caccia Benelli calibro 12 con la matricola cancellata, un fucile ad aria compressa modificata calibro 9 Flovert, 3,5 kg di polvere da sparo e 433 proiettili di vario calibro. Sequestrate anche tre piante di cannabis e 70 semi, circa 10 grammi di marijuana ed un bilancino di precisione. L'uomo è stato ovviamente arrestato. In piazza del Carmine a Giarre invece la scorsa notte un cittadino romeno è stato letteralmente preso a bastonate da due connazionali. Solo l'arrivo dei carabinieri della locale stazione e del nucleo radiomobile della compagnia di Giarre hanno scongiurato il peggio. A finire in manette per minacce, lesioni personali aggravate, porto di armi ed oggetti atti ad offendere e violazione di omicidio sono stati il 25enne Fediuk Julia Vlad ed un coetaneo, entrambi appunto romeni, che per ragioni ancora da chiarire hanno aggredito a colpi di bastonato un connazionale di 32 anni. La vittima, trasportata all'ospedale di Acireale con l'ambulanza, è stata medicata e riscontrata affetta da fratture al setto nasale e ferito lacero contuse con prognosi di 30 giorni. Il bastone di legno lungo 72 centimetri è stato sequestrato. Uno 39enne di Biton è stato invece arrestato dai carabinieri a Trecastagni per stalking nei confronti dell'ex convivente per avere violato un provvedimento del Tribunale per i minori che le autorizzava ad incontrare la figlia di 4 anni soltanto in presenza degli assistenti sociali. L'uomo in passato era stato denunciato per molesti e minacce nei confronti della donna. Per anni l'ex convivente, arrivato nei giorni scorsi dalla Puglia in Sicilia, ha cominciato a pedinare la donna e la bambina nel paese in cui vivono. I carabinieri lo hanno arrestato contestandogli di non aver ottemperato ai divieti imposti dal giudice. Infine i carabinieri del nucleo radio mobile della compagnia di Giare hanno arrestato Simone Vaccarella, 24 anni, denunciato in stato di libertà alla moglie di 19 anni e un 28enne per detenzione di sostanze stupefacenti. Nell'auto sulla quale viaggiavano è stata sequestrata una busta di plastica contenente circa mezzo chilo di marijuana. Momenti di grande paura questa mattina a Daci Sant'Antonio in via Giacomo Leopardi dove si è improvvisamente aperta una voragine in strada mentre passava una donna con la sua auto che vi è finita dentro, per fortuna senza gravi conseguenze. Vediamo. Spiorata la tragedia questa mattina a Daci Sant'Antonio in un complesso condominiale sito in via Giacomo Leopardi. Nella rampa utilizzata per l'ingresso e l'uscita delle auto si è infatti aperta una voragine profonda, alcuni metri che ha letteralmente inghiottito una Suzuki condotta da una donna che poco prima delle sette si stava recando al lavoro. Il boato sorto dello smottamento ha svegliato i residenti della zona ed è subito scattata la macchina dei soccorsi che ha visto il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, con la donna che, al di là del comprensibile sciocco per quanto accaduto, non ha riportato particolari conseguenze. Come hanno avuto modo di accertare i medici del pronto soccorso dove la donna è stata sottoposta precauzionalmente ad una serie di accertamenti. Sul posto si è subito recato il sindaco di Aci Sant'Antonio, Santo Caruso, che ha coordinato gli interventi più immediati per fronteggiare l'emergenza. È un momento di paura, meno male che non ci sono stati dei feriti, quindi tutto sommato è successo e grazie a Dio siamo qua a vedere solamente i danni. Siamo intervenuti assieme ovviamente al corpo dei vigili urbani, a protezione civile. Io personalmente sono stato tutta la mattinata qua a cercare di capire e soprattutto sostenere i cittadini, la popolazione della zona. Sono eventi particolari che scaturiscono sicuramente da questo cambiamento climatico che porta a questa abbondanza di acque e queste situazioni che saranno purtroppo nuove ma possibilmente saranno anche frequenti perché dobbiamo capire l'acqua come si articola e dove va a finire. Quindi oggi abbiamo fatto solamente un intervento di messa in sicurezza. Ovviamente essendo un privato, una zona privata, saranno i privati stessi ad organizzarsi per far sì che tutto venga messo in sicurezza e venga ripristinato. Abbiamo anche chiamato l'azienda del gas perché ci sono anche delle perdite di gas e quindi tutto viene messo in sicurezza e spero che tutto venga ripristinato in breve tempo. Conseguenze del maltempo degli ultimi giorni, in particolare di ieri. Anche a Dacci Catena ad esempio si contano i danni ed è crollato pure parte dell'oratorio San Giacomo. Vediamo. Il maltempo continua a sferzare il territorio comunale catenoto che paga anche la posizione geografica, cioè sottostante la timpa che sorregge gli altri comuni dell'Acese, da Valverde ad Aci Sant'Antonio. Le copiose acque cadute dal cielo e poi riversatesi nelle strade che si tramutano in fiumi hanno la scorsa notte invaso l'argo Madonna del Sorriso ad Aci San Filippo e la solita via Aldomoro nel cuore di Aci Catena. Acqua alta e detriti che hanno provocato alcuni danni limitati però rispetto a ieri. Nella zona di San Giacomo e più precisamente via Santa Maria del Sangue però si segnala la frana di una porzione dell'oratorio parrocchiale. In via Pescheria tra Santa Venera al Pozzo e Reitano una famiglia è rimasta bloccata in casa per il deposito di grossi massi sulla sede stradale che, in buona parte, ricalca il greto del torrente da cui assume il nome. Sul posto si è recata la protezione civile comunale nel tentativo di liberare la sede stradale da detriti e massi, essendo aperto il passaggio pedonale però insicuro per la probabilità di precipitazioni che rimane comunque alta. Intanto a Palazzo di Città si lavora sulla direttiva del sindaco Ascenzio Maesano, cioè quella che ipotizza il ristoro economico dei danni subiti alle strutture di via Aldomoro dove la notte tra mercoledì e giovedì l'acqua invase scantinate a garage abbattendo anche muretti perimetrali. In via Aldomoro si spera che a breve possano essere avviati i lavori di rifacimento della conduttura idrica, un progetto da un milione di euro già approvato e del quale si attende solo il via libera dalla Cassa Depositi e Prestiti per la devoluzione dei vecchi mutui già contratti dal Comune e parzialmente risparmiati. Conta dei danni anche a Cireale dove stamattina le scuole erano chiuse, allora si è proceduto con dei sopralluoghi di verifica per verificare appunto le condizioni degli immobili che ospitano gli istituti scolastici. Vediamo. Situazione oggi decisamente migliorata rispetto ieri a Cireale anche se fino alla notte scorsa non sono mancate ancora le piogge torrenziali condite da tuoni e fulmini. I principali problemi si sono avuti così nella zona di Santa Maria Ammalati lungo la via provinciale allagata dalle acque piovane tanto da rendere necessario l'intervento dei vigili del fuoco per fronteggiare la situazione e agevolare il transito degli automobilisti. Inoltre in un condominio è venuta giù una palma che ha danneggiato una vettura. Ancora una volta in generale la rete viaria cese stata invasa dalle acque provocando disagio agli automobilisti. Oggi scuole chiusa da Cireale non dando per l'allarme ma al tempo quando piuttosto per verificare la situazione degli edifici scolastici alla luce delle precipitazioni avvenute nell'arco di due giorni toccando un livello che di solito si ha mediamente in tre mesi. Abbiamo avuto qualche difficoltà perché le scuole logicamente erano chiuse però abbiamo contattato i dirigenti scolastici che ci hanno dato la possibilità di verificare le scuole. Devo dire che sinceramente tranne qualche problema di infiltrazione per esempio alla Fanciulli poi nelle altre scuole molto 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 limitate queste infiltrazioni. Logicamente per esempio prendiamo una scuola come questa che è la Pasini che è la più antica e storica della nostra città problematiche di infiltrazioni quasi nulle solo c'è il problema e spero che questa volta finalmente dopo anni di promesse riusciamo a far cambiare questi infissi che durano da circa 50 anni. Messa alle spalle questa fase l'attenzione si spostò ora sulla rete viaria ai danni provocati dal maltempo. Ancora l'assessore Ardita. Stiamo già oggi attenzionando la problematica abbiamo obbligatoriamente dovuto fare una determina di somma urgenza perché bisognava obbligatoriamente intervenire nelle strade perché purtroppo questa pioggia fa molti danni in particolare nell'asfalto che è un asfalto ormai vecchio e di conseguenza salta molto spesso. Noi stiamo cercando come l'anno scorso abbiamo fatto per esempio in Piazza Europa e in qualche altra zona di scarificare prima di intervenire per poter dare una manutenzione più effettiva, più moderna e più fattiva. Stiamo cercando di fare questo, i prezzi in questo caso lievitano un pochettino però la durata è maggiore e noi questo è quello che vogliamo fare. Logicamente gli interventi che si devono fare si devono fare con la massima urgenza per cercare di eliminare i pericoli nelle strade. Ancora maltempo in seguito alle intense piogge di stanotte. Ieri sera intorno alle 23 si è verificato il crollo di un soffitto di un'abitazione in via Siculo orientale a Mascali. Una donna che vive nell'immobile è rimasta ferita ed è stata soccorsa dal personale del 118 per poi essere trasferita al pronto soccorso di Aceriale dove se l'è cavata con una prognosi di sei giorni. All'anziana con ordinanza sindacale urgente però è stata offerta ospitalità presso un albergo a spese del comune di Mascali. La casa della donna infatti è stata dichiarata inagibile. Adesso ci fermiamo pausa legata alla pubblicità tra poco con la seconda parte di reporter. Il teatro stabile di Aceriale presenta la ventiduesima stagione teatrale nazionale 2015-2016 con Vincenzo Salemme, Massimo D'Apporto e Tullio Solenghi, Massimo Ghini e Galatea Ranzi, Iva Zanicchi, Barbara Boucher e Corinne Clery, Tuccio Musumeci, Pippo Pattavina, Pippo Franco, Guia Ielo e tanti altri. Abbonamenti a partire da 70 euro presso Teatro Turiferro dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 20.30 e Grande Albergo Maugeri dalle 17 alle 20. Infoline 095 98 92 093. Teatro stabile di Aceriale. Da oltre vent'anni il teatro della tua città. Oragel, un tesoro di freschezza direttamente dal mare sulla vostra tavola. Il pescato di Oragel non attraversa una filiera esterna. Arriva con le barche alle prime ore del mattino nel mercato all'ingrosso di Acitrezza, da dove in poche ore raggiunge Oragel per essere lavorato e proposto in pescheria. Oragel, la pescheria al dettaglio con i prezzi all'ingrosso, dove oltre al pesce fresco offre dei surgelati e ottimi preparati. Lavoriamo direttamente lo stocco e il baccalà, preparandolo con cura attraverso antichi metodi, per garantire la massima qualità. Oragel, freschezza e convenienza, al servizio della clientela. Ad Acireale, in via De Amicis, angolo via Alessandro Volta. Oragel, l'oro del mare. L'IRMA, con l'adesione al principale CoreLab siciliano centralizzato, ha ampliato la gamma degli esami specialistici. Il riporto dei risultati precedenti sul referto rende agevole il monitoraggio clinico ed evita inutili ripetizioni di analisi. Il riconoscimento dei pazienti all'atto del prelievo rende impossibile lo scambio dei campioni in fase preanalitica, evitando uno dei più insidiosi errori di laboratorio. La consulenza di patologia clinica sugli esami specialistici di genetica e biologia molecolare agevola l'interpretazione del referto. IRMA, nuovi esami automatizzati per le intolleranze alimentari. L'IRMA fa parte delle otto strutture contrattualizzate a livello provinciale che effettuano la verifica esterna di qualità regionale, direttamente controllata dall'assessorato regionale per la salute. Torniamo in studio per la seconda parte di Reporter, che apriamo parlando di Giarre, dove ieri sera il Consiglio Comunale ha eletto il nuovo collegio dei revisori dei conti. Il neopresidente è una donna, la commercialista giarrese Vera Blancato, sostenuta da articolo 4. Vediamo. E' Vera Blancato, 44enne commercialista di Giarre, nonché membro uscente del Collegio dei Revisori dei Conti, il nuovo presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Giarre. Ieri sera il nuovo collegio è stato eletto durante una seduta di consiglio scandita da lunghissime pause e sospensioni. L'opposizione che in Consiglio Comunale a Giarre è maggioranza ha in pratica riconfermato due dei revisori uscenti. Oltre alla dottoressa Blancato, infatti, è stato riconfermato anche il dottor Giuseppe Rocca. La Blancato, sostenuta da articolo 4, Rocca invece, espressione del PD. I consiglieri che sostengono il sindaco e che in consiglio sono in minoranza hanno invece eletto il dottor Giuseppe Sapienza, ragioniere capo a Santa Venerina e a Daci Sant'Antonio. Al termine della votazione, poi, il consigliere Tania Spitaleri del PD ha sottolineato come l'elezione dei revisori sia stata frutto di un'intesa tra il PD e il gruppo articolo 4 e che un'opposizione forte vuole essere un importante pungolo all'amministrazione. Le ha fatto eco il capogruppo di articolo 4, Raffaele Musmeci. Più pungente, invece, il consigliere Orazio Scuderi di Proposta Popolare che ha sottolineato come il dottor Sapienza, espressione dei consiglieri, riconducibile. L'amministrazione sia stato votato solo da 6 consiglieri quando invece il totale dei consiglieri che sostengono il sindaco è di 8. Il capobranco perde pezzi, ha così commentato Scuderi che ha invitato il sindaco a dimettersi per evitare lo smacco della mozione di sfiducia votata dal consiglio e già proposta dal movimento politico Città Viva. Restiamo a Giarre dove il Movimento 5 Stelle riaccende i riflettori sui prezzi troppo cari delle locali strisce blu, tra i più alti in Sicilia. Proprio in questi giorni, infatti, la deputata 5 Stelle Angela Foti ha inviato una lettera per sollecitare ancora una volta il sindaco Bonaccorsi ad inviare gli atti richiesti. Nonostante siano passati sei mesi dalla richiesta il sindaco, infatti, non ha ancora provveduto ad inviarli e la legge impone un tempo massimo di 30 giorni specifica il Movimento 5 Stelle. Nei mesi scorsi, afferma la Foti, abbiamo avanzato diverse richieste di accesso agli atti in modo da valutare la vicenda e verificare l'andamento economico dei profitti. Lo stesso contratto ha aggiunto poi la deputata a vincolo alle parti ad una verifica congiunta ogni tre anni finalizzata alla verifica economico-finanziaria della concessione, ma di queste veritiche nemmeno l'ombra. Va ricordato, però, che la gestione dell'allora sindaco Sodano approvò il progetto di finanza che, in cambio del completamento del parcheggio multipiano Yolanda, ne ha consegnato per 40 anni il territorio alla Giarre Parcheggi SRL. Oggi questo contratto deve essere rivisto. Ha concluso la parlamentare Grillina. Le maggiori problematiche sono appunto il costo del biglietto e l'assenza del frazionamento dell'ora che costringe gli utenti a dover pagare per un'ora intera anche se la sosta è di soli 15 o 20 minuti. E a pagarne le conseguenze sono i commercianti che vedono sempre meno potenziali clienti. Oggi invece a Giarre, dalle 17.30, nelle ex pescherie di Via Calderai, in occasione della giornata nazionale dei nonni, la Federazione Nazionale Pensionati della CISL di Giarre e l'Anteas CISL organizzano una festa dei nonni con momenti di riflessione e attività ludiche per nonni e nipoti. Torniamo ad Acireale. Saranno otto in totale le sedute di Consiglio Comunale per il mese appena cominciato, vale a dire ottobre. Il presidente del Consiglio Comunale, Rosario Raneri, ha concertato ieri con i capi gruppo consigliari date e argomenti in trattazione. Si comincia martedì prossimo, 6 ottobre, e si continua nelle giornate di giovedì 8, martedì 13, giovedì 15, martedì 20, giovedì 22, martedì 27 e giovedì 29 ottobre. Il Consiglio ha in agenda diversi argomenti da affrontare, compreso l'approvazione del bilancio di previsione 2015 che, seppur esitato dalla Giunta Comunale lo scorso 10 luglio, non è ancora approdato in aula e lo farà con molta probabilità in una delle ultime sedute del mese in corso presumibilmente il 27 ottobre prossimo. Tra gli altri argomenti previsti troviamo anche il piano generale di sviluppo, la relazione sulla cittadella del Carnevale che, come si ricorderà, necessita di interventi e mette a rischio il lavoro dei maestri della cartapesta per l'edizione invernale del Carnevale e poi una doppia tornata di interrogazioni e interpellanze dei consiglieri comunali. Restiamo ancora ad Aciriale, ma cambiamo argomento. Aciriale che presto potrebbe beneficiare di importanti contributi che consentirebbero la riqualificazione di tre importanti edifici pubblici. Sentiamo. Tre progetti di recupero per un valore complessivo di 1 milione e 600 mila euro. riguardano due edifici religiosi, la chiesa di San Michele e quella di Aciplatani e l'immobile che nel centralissimo Corso Umberto ospita la sede del commissariato di pubblica sicurezza. Tre progetti che il sindaco ha personalmente presentato a Palermo parteciperanno al bando pubblicato dal Dipartimento regionale delle infrastrutture, mobilità e trasporti per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento. Attendiamo adesso buone notizie, commenta infatti Barbagallo. Sarebbero tre interventi molto importanti per la città e per la comunità. Basti pensare alle gravi criticità che presenta ormai da anni la chiesa di San Michele. Il primo dei tre progetti, quello più corposo, con una previsione spesa di circa 800 mila euro, interessa per l'appunto la chiesa di San Michele e prevede la messa in sicurezza di tutta la parte esterna dell'edificio religioso che, come si ricorderà, è chiuso al culto dal mese di marzo del 2010. Da allora, per non correre il rischio di desertificare una intera parrocchia, le celebrazioni vengono effettuate nel salone teatro adiacente alla chiesa con ingresso da via agli astri. Per quanto riguarda l'altra chiesa, quella della popolosa frazione di Aciplatani, prevista una spesa di circa 150 mila euro per la pulitura della fronte principale, il recupero degli intonaci, il ripristino degli ammaloramenti presenti, l'illuminazione scenica del prospetto con tecnologia LED, il consolidamento della colonna della torre campanaria e ancora una rampa per accesso a disabili laterale dalla sagrestia, l'impianto fotovoltaico sul tetto di copertura della canonica. Per quanto riguarda infine l'immobile che ospita la sede del commissariato, la previsione di spese è pari a circa 650 mila euro. Prevede il recupero fronte principale d'accesso, la pulizia della facciata, l'illuminazione scenica del prospetto con tecnologia LED, la messa in sicurezza degli impianti elettrici, la realizzazione dell'impianto di condizionamento al piano terra e al primo piano, la sostituzione dell'ascensore interno per favorire l'accesso ai disabili e ancora la rilevazione incendi per gli archivi. Dobbiamo sempre farci trovare pronti a cogliere le opportunità offerte dai bandi, commenta il sindaco Barbagallo, così da reperire quanti più finanziamenti possibili per compensare le scarse risorse presenti in bilancio. Torniamo a parlare adesso della questione sicurezza sulla statale 114. Il consigliere comunale Giuseppe Ferlito ha appuntato l'attenzione sulla necessità di una barriera spartitraffico lungo la statale nel tratto che da Cireale porta alla frazione di Santa Maria Malati. Sarà anche brutto da vedere, ma almeno riduce i rischi di incidenti frontali frutto di sorpassi o manovre azzardate. Parliamo dello spartitraffico installato pochi mesi fa a lungo la statale 114 nel tratto compreso tra Cireale e Capomolini che tante critiche aveva sollevato per la bruttezza in termini estetici della barriera di New Jersey, posizionata dall'ANAS. Ma la sicurezza prima di tutto è questo il concetto da tenere sempre bene in mente e che riprende anche il consigliere comunale Giuseppe Ferlito concentrandosi su un altro tratto della stessa strada statale quello che da Cireale porta verso Santa Maria Malati e Guardia. Una strada a scorrimento veloce, teatro in passato, anche di incidenti mortali e che necessiterebbe di interventi atti ad elevare il livello di sicurezza per automobilisti e centauri, quale l'installazione di una barriera spartitraffico. Un argomento questo già sollevato in consiglio comunale dallo stesso Ferlito che aveva sollecitato l'ex assessore alla viabilità Rori Pietropaolo a contattare i vertici dell'ANAS affinché valutassero l'installazione di una barriera spartitraffico. Di fatto sarebbe una soluzione che alleverebbe o toglierebbe del tutto il problema e quindi sarebbe soprattutto per una questione di sicurezza per i cittadini una soluzione graditissima. Qualche mese addietro, circa un mese e mezzo fa, è stato posto nella fase delle interrogazioni, è stato posto il problema e l'assessore ha inviato una lettera all'ANAS ma sarebbe opportuno sollecitarla, sarebbe opportuno fare un po' di pressione all'ente per avere delle risposte celeri. Dall'ANAS che ha competenza sull'arteria ancora nessuna risposta ma la proposta rilanciata dal consigliere Ferlito potrebbe trovare concretezza rientrando all'interno del progetto della stessa ANAS di realizzare nei prossimi mesi all'altezza del bivio per Santa Maria Ammalati una rotatoria simile a quella realizzata pochi mesi fa al bivio San Peri. Se la linea progettuale rimanesse quella, infatti, la barriera spartitraffico sulla SS 114 potrebbe decisamente allungarsi. A Cireale che intanto fino a domenica si è trasformata in una sorta di laboratorio artistico a cielo aperto è infatti la capitale del Ring of the European Cities of Ironworks sul tema abbiamo anche sentito l'assessore all'artigianato Alessandro Oliva. Vediamo. A Cireale per quattro giorni sarà la capitale del ferro battuto e dell'artigianato ha preso il via ieri la manifestazione L'Anello del Ferro riscoprire le tradizioni locali, gli antichi mestieri e confrontarsi con gli artigiani provenienti da altri paesi e che hanno un patrimonio culturale differente ma che può arricchire l'arte acese. Ieri in Piazza Duomo il saluto del sindaco di Acireale Roberto Barbagallo alle 16 delegazioni provenienti da tutta Europa. L'inaugurazione è stato un momento di festa e di partecipazione che ha dimostrato giusta la scelta di indicare Acireale come sede del meeting europeo di quest'anno. Dopo l'accoglienza iniziale le delegazioni di Germania, Finlandia, Repubblica Ceca, Paesi Bassi e Spagna, Austria, Ucraina e Russia hanno partecipato ad un tour speciale tra le bellezze del barocco del centro storico guidato dagli alunni del liceo classico Gulli e Pennisi i quali hanno accompagnato gli ospiti all'interno della Basilica Cattedrale dell'Annunziata dei Santissimi Pietrepaolo e della Collegiata di San Sebastiano. Un momento importante anche per il turismo, oltre che culturale ed artistica per far conoscere il patrimonio storico, paesaggistico ed architettonico della città e per coinvolgere gli studenti del territorio che con impegno ed interesse hanno partecipato alla riuscita dell'evento. 16 delegazioni hanno una certa valenza, una certa importanza ci pongono al centro dell'Europa in questo momento sì, per un'arte antica, per un'arte importante e turisticamente parlando ci spingiamo oltre perché questa è una programmazione l'anno scorso il sindaco ha portato l'ottimo risultato di avere per quest'anno la manifestazione qui a Decirale con tutte le conseguenze che ne derivano e preannuncio che il sindaco ha fatto la proposta per l'anno a venire di far parte del consiglio vero e proprio perché c'è un organo direttivo dell'anello cosiddetto del ferro a livello europeo che è composto dal presidente, dal vicepresidente, dal segretario, dal tesoriere e da alcuni consiglieri quindi il comune di Decirale entrerà a far parte dell'amministrazione vera dell'anello del ferro rinviata domani invece causa all'erta medio l'inaugurazione ufficiale alla Villa Belvedere domani infatti gli alunni dell'istituto comprensivo Vigo Fuccio Laspina parteciperanno all'inaugurazione con balli e musica internazionali basati sui temi della fratellanza e la pace tra i popoli in questi giorni i locali dell'ex angolo di Paradiso si trasformeranno in un laboratorio artistico di spessore internazionale dove potranno essere visitate le opere dei mestri artigiani A Daci Sant'Antonio viste le condizioni meteo di questi giorni la finalissima di musica libera che porterà a confrontarsi sei artisti si terrà domani sabato 3 ottobre al chiuso presso l'oratorio Monsignor Pulvirenti in Via Madonna delle Grazie 67 proprio a Daci Sant'Antonio ospite della serata sarà Rita Botto siamo in chiusura e a proposito di domani andiamo a scoprire le previsioni meteo nuvolosità sparsa ma senza precipitazioni i venti saranno prevalentemente modernati temperatura in variazione scende la minima a 18 gradi sale la massima a 25 i mari saranno mossi e per oggi è tutto grazie per averci seguito vi ricordo la nostra pagina facebook ufficiale tenespresso channel trattino tg reporter per le vostre segnalazioni ma anche per darvi la possibilità di rivedere in qualsiasi momento tutte le edizioni in archivio del nostro tg tg reporter che torna domani puntuale alle 13 e 40 arrivederci grazie a tutti